Stiamo elaborando i dati per capire l'entità del danno, quindi tutti i danni che sono stati causati, edifici privati, edifici pubblici, per riuscire a notificare alla regione e quindi ai ministeri quanto Parma ha sofferto in termini di danno economico. Guardiamo avanti anche perché dobbiamo cominciare a elaborare la ricostruzione, soprattutto una riflessione mi sembra utile, abbiamo richiesto anche al governo finanziamenti già ormai da alcuni mesi per il consolidamento del ponte sul fiume Taro, pochi giorni fa ci sono stati ulteriori crolli, quindi mi auguro che anche in questo caso la politica, noi compresi ma tutti in generale non aspettiamo la tragedia per intervenire, quindi metterei nell'agenda del governo e nell'agenda di questo tavolo di crisi anche il ponte sul Taro.